Forse non tutti siano che? A Milano puoi fare noi gli ucchenniti di lasagna. Siamo dalla segna Factory in via Pavia 6, zona Navigli. Noi siamo riusciti a mangiarne 5. Parte il treno. Factory, pasta all'uovo, ragù di ossobucala milanese con besciamella allo zafferano. Lazio, pasta all'uovo, pancetta, provola affumicata, patate con besciamella a cacio e pepe. Liguria, pasta all'uovo, pesto, pomodori sticcati, granelli di pistacchi con besciamella bianca. Sicilia, pasta all'uovo, ragù di mare con besciamella a nero di seppia. E toscana, pasta all'uovo, ragù di ana tra l'arancia con besciamella agli spinaci. La mia preferita tra le 5? Nessuna. Davvero le amate tutte e a mio parere buonissime con scelta e accostamento degli ingredienti top. Chiudiamo con due dolci, tiramisù e tortino al cioccolato. E fai una cosa, intanto che pensi chi potrebbe accompagnarti in questa avventura? Seguimi va, ciao!